Scusate Carmine sveglio 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 che stanno giocando guardate il pallone Carmine che serve a questo piede alzato? ehi, più avanti, avanti, che tira avanti lui avanti andò, bravo, più forte andò grazie, 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 grazie grazie, grazie, grazie tira Carmine, tira mi preoccupare Gabriele, venga giù portiere ehi, Carmine quando ti richiamate a Gabriele che devi prendere la palla non guarda a me, Carmine, guarda la palla Gabriele portiere tu guarda a me, pensa a giocare torna, torna Carmine torna Carmine torna Carmine brava via tira va bene pippa vai vai tira vai tira vai avanti capire, vado capire dove va e passare la porta addosso oh ti tiro che hai fatto? the move verde ti è mai rossella Gabriel vai aspetta Gabriel portiere Antonio stai vicino al portiere che fai là? vai Carmine Carmine e chi batte? chi batte? stai dormendo? Carmine aspettalo qua Carmine tu non uso mai Carmine Carmine è tua la palla Carmine giocate per favore giocate 0 giocate voi svegliatevi che facete dormire? guardate che tirano carmine torna avrà un vantaggio, torniere! sali oh oh, ma dove andate? a penale devi stare vicino agli avversari, non è che te ne vai a bordo tira la mano ruba il pallone, ruba il pallone vai, muovi vai non troppo Antonio, non troppo non troppo bene bene non ci sono ma Gabriele che fai là? No! Vai Luca! Vai Luca! Vai Luca! Eh rigore! No batte Carmine! Sali Carmine! Bravo Antonio! Non è finita la partita! Fido! Passa! No! Passa Luca! Ammelle! 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 Cristian! 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 Tira! Tri! 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 Ok! Subito! Eh dai! Oh! 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 Materale giallo! You're mu reservoir! ati! This is mom, actually! Ahh je-je! It's cold! stay-yo! Is it cold? 하지! It's cold! Ah! And i-yah! Medvedereci unlikely it is! And i-eh j produção! I don't know you! Tira e, rhai! Tira e! Tira e, rhai! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. No, no, no. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Carmine, avanti! Carmine, passa indietro mai! Eh, Gabriele, non ce la fai più, non ce la fai, Gabriele? Se non ce la fai, ce la fai o no? Ce la fai o no? Eh, muoviti! Ritma, ritma! Gia, ha, è? Gia,га, grazie, ah! Gia, dragons, ha cambiato, è! Gia, grazie! Gia, grazie! Gia, grazie! Gia, grazie! Gia, grazie! lascia lì, lascia lì, lascia lì portiere è vivo, è vivo adesso Gabriele, a chi è l'interno, si trova l'interno l'interno, l'interno, l'interno Gabriele, che tieni Gabriele? Gabriele, a chi è lì? Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì.